buon pomeriggio a tutti voi benvenuti al tg cronache allora cominciamo oggi il tg cronache parlando delle nuove rotte dei migranti nel mediterraneo ma non solo perché lo sapete c'è una nuova sfida difficile per raggiungere l'europa quella di attraversare il pericolosissimo mar nero un naufragio lo sapete c'è stato a nord ovest della turchia su una piccola imbarcazione un piccolo peschereccio carico di migranti un bilancio pesante sono morte 21 persone ci sono 15 dispersi e poi lo dicevamo allora nel mediterraneo anche i cosiddetti viaggi fantasma piccole imbarcazioni anche qui cariche di persone fatti viaggi fatti di notte per sfuggire ai controlli della guardia costiera italiana allora iniziamo da qui tre nuovi sbagli allora torniamo sul discorso di teresa mei ieri a firenze un discorso importante significativo lo sapete è stato allungato diciamo così il tempo di attuazione della brexit altri due anni e poi la premier britannica ha tentato di rassicurare i cittadini dell'unione europea che vivono in gran bretagna ma ieri a firenze in piazza santa maria novella c'era anche chi non ha protestato chi non digerisce non ha digerito la brexit e sono quei cittadini britannici che vivono in italia che vivono in europa e che sono molto preoccupati per il loro futuro allora li sentiamo torniamo adesso sulle minacce ricevute dal commissario straordinario di licata siamo in provincia di agrigento maria grazia bardara la procura di agrigento ha aperto un'indagine proprio su questo sulle minacce e poco fa il comitato per l'ordine e la sicurezza della prefettura di agrigento ha deciso di affidarle la scorta cosa ha detto lei ha detto ho paura e sto decidendo sto valutando se lasciare oppure no la comitazione siamo allo sport al tennis prima edizione della lever cup a praga il team dell'europa che parte con il piede giusto contro quello del resto del mondo è una sfida attesa quella che vede questa sera in coppia una coppia inedita federer e nadal nella stessa squadra ci sono gioco adesso il ciclismo ancora medaglie per l'italia nel nei mondiali di ciclismo su strada in corso a bergen in norvegia oggi nella prova juniors maschile secondo posto per luca rasselli e medaglia di bronzo per michele gazzoli ma la reginetta dei mondiali elena pierrone che ieri ha conquistato uno storico bis allora poco fa è terminato il consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza con le nuove stime sui conti pubblici allora vi do alcune dichiarazioni stanno uscendo in questo momento il premier gentiloni cosa ha detto innanzitutto ha detto i numeri di crescita sono solidi e positivi c'è anche una flessione del debito pubblico questo è stato possibile con le riforme del governo renzi che noi abbiamo proseguito e ancora gentiloni ha detto i risultati sono stati resi possibili dalle riforme ve lo dicevo ma ha detto anche questa non sarà un freno alla tendenza positiva dell'economia non sarà una manovra depressiva e poi il ministro dell'economia paduan ha parlato del pil che al più 1,5 per cento la crescita del pil nel 2017 ha detto paduan è confermata all'1,5 per cento lo ha detto appunto piercarlo paduan nel corso della conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri il governo stima una crescita dell'1,5 per cento anche per il 2018 e per il 2019 è davvero tutto per oggi l'informazione torna questa sera alle 20 ci vediamo domani con il tg cronaca e buona giornata